Franco Bolami, stagione alla Via della Vastese, quali sono le sensazioni? Sensazioni molto positive, questo come ho sempre detto è il quinto anno, oggi si riparte con un nuovo progetto, con tanto lavoro in questi quattro anni fatto e soprattutto con una strutturazione sia societaria che di giocatori ben diversi dagli altri anni. In questi anni abbiamo fatto tanto come società, come ambienti sportivi, questo ci siamo dedicati perché purtroppo più a basso era quasi sotto zero un po' di tutto, da quest'anno ci dedichiamo in più a fare questo progetto con il ministro Amelie perché stiamo buttando le basse per portare a basso dove merita. Un progetto che non ha scadenza annuale? Un progetto a tre anni, un progetto vero, un progetto dove c'è tanto da lavorare perché forse non tutti sanno cosa significa avere una squadra di calcio e ci vuole del tempo, abbiamo finito il 30 di maggio e dopo un mese già stavamo in gammino per portare questi colori dove più avanti possibile, però ci vuole del tempo, ci vuole la passione e devo ringraziare soprattutto i miei addetti lavori, i miei dirigenti che sono 5 anni che stanno con noi, i miei sponsor soprattutto che ci danno la mano e soprattutto veramente chi ama questi colori, chi ha questa fede e dico di stare vicino a questa squadra, non tanto a noi perché noi già sappiamo quello che dobbiamo fare e di stare vicino a questa grande realtà, stare vicino a questi colori perché questi ragazzi meravano ammendettando.